Oh, Leonardo ha combinato una cosa, mi è arrivata una mail, oggi è l'ultimo giorno per ordinare per San Valentino gratis, sabato è San Valentino! Ordinare? Cioè nel senso se tu puoi mandare qualcosa o lo fai oggi o non lo fai più? Esatto, perché ci siamo distratti, anche te sembra pensare ai vestiti, alle passarelle, l'importante non è Sanremo. Ma questa settimana succede tutto questo, tutti questi santi questa settimana, dai, non è possibile. Tutto è così, quindi qualcosa bisogna organizzare, perché io ho paura che non ci si faccia. No, io poi se organizzo qualcosa per San Valentino, sai, è una settimana un po' particolare. Esatto, ma poi soprattutto, come si fa, vada a prenotare un ristorante, sono tutti pieni, ma poi tutti i tavolini da due, anche loro non è che poi i ristoratori siano così contenti. Sto ristoratore si lamenta sempre, però per San Valentino... Sempre, sempre in questo modo, e io a questo punto, no, bisogna inventare qualcosa. Eh, bisogna inventare qualcosa, perché anche io so che un sacco di persone mi chiedono, ma dove vado a San Valentino, sono da solo, oppure no, non voglio fare la solita cosa. Senti, ci vuole una cosa un po' fizzante, una festa, è una cosa bella. Eh, no, una festa è un'idea, poi, però, primo elemento è una festa, è che si beve. Vino. Vino. Ma soprattutto un vino, oh, senti, ma poi è la passione, il giornalismo, c'è passione, vino rosso. Rosso, vabbè, nero, rosso, 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 ovviamente. Vino rosso, ora in Toscana non è difficile trovare un vino rosso, però ce ne vuole uno proprio legato all'idea dell'amore, è una cosa un po' universale. Sì, questa cosa dai un vino che sarà adatto a quelli che sono gli amanti di San Valentino. Quindi, amanti... Sì, ma diciamolo anche in un altro modo, perché così gli amanti di San Valentino sono... No, no, è vero qualcosa... Eh, vabbè. Suntate, i Chianti Lovers. Chianti Lovers, guarda come suona, Chianti... Chianti Lovers. Ma davanti, ma Lovers suona anche meglio. È un'idea poi della tradizione, perché tutti lo conoscono, Chianti, e questo colore, questa idea più moderna. Io lo farei, sicuramente andrei in questa festa. Perfetto. E quindi, il 14 febbraio, Chianti Lovers, ma dove alla Manifattura Tabacchi a Firenze sarà una serata da non perdere. Noi ci siamo.